All'interno del luogo dove la Bar Boom Band crea le sue magie abbiamo con noi Maurizio. Allora Maurizio, dicci qualcosa. Art Director, nonché responsabile dell'SOS, di cui fa parte questo posto, che è stato stato dato dall'FS e che ringraziamo perché ci ha dato uno spazio più grande dove accudire ai nostri assistiti e anche questo spazio dove noi facciamo delle attività creative con i ragazzi che vengono qua, suonano e ogni tanto facciamo dei concerti. Quali sono i prossimi appuntamenti della Bar Boom Band? I prossimi non sono a breve perché dobbiamo fare il ventennale di SOS, cioè 20 anni che siamo in stazione centrale di Milano e quindi all'interno di questo evento ci sarà anche il concerto, le mostre fotografiche e una conferenza stampa sulle attività del centro. Bene, da Milano è tutto, grazie e ciao!